no vabbè me ne vado io e non vieno a guardare no 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 mi sto allontanando l'ho detto che non ti vuole allora dove stanno? dall'altra parte dell'isola no solo questo lo sapevo io sono un bel chile davanti a loro ma non mi stanno guardando se si sparano entrambi e mi butto col barile io appena li vedo entrambi me ne vado sulla loro nave mi ha sparato uno però sulla loro nave non è sicuro perchè ora ritorna il brigantino infatti sta ritornando uno l'ho ucciso uno l'ho ucciso raga uno l'ho ucciso hanno detto sono ancora qui raga uno l'ho ucciso eh basta prendi un barile e vai a far esplodere l'alora io non posso perchè sta guardando di qua ma perchè si sono fermati? ma ragazzi ma sai perchè io bro si sono fermati? perchè mi ho stato lì se che sta facendo il kamikaze e loro non lo continueranno mai secondo me stiamo perdendo un sacco di tempo ma muore pure questo si c'è troppo combattimento si si e dove mi nascondo? io è da prima che provo a nascondermine che c'è sulla... sulla coffa del... vai vai nella cima vai sulla tua spara 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 tanto ormai non sanno che siamo noi figa eh niente ma sei scemo Revol e mi han cannonato guarda adesso gli spara vai ora stanno puntando a me spara ne vale proprio il pezzo no vai più comunque qua non si farà mai nulla vabbè ma ci stiamo divertendo dammi il cambio quando è finito vai dov'è nooo perfetto oh no se lo prendi tutti la vela giù andiamo tutti quanti lì al vato andiamo alla prossima torre oh se gli spariamo a tre torri se ora gli sparo io poi gli spara a zannella non gli sparo io ma gli sparo io è però proprio sgamato capi? eh ma ormai ce l'ho sgamato si gli spara spara l'esplosivo questi bastardi sulla torre l'esplosivo l'esplosivo ma c'è chi c'è chi c'è chi c'è uno l'ho ucciso uno l'ho ucciso vai 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 zanne vai di incendiare adesso arriva anche il brigantino io mi piatto a prossimo canone ma vedi questo è il trucco loro stanno girando intorno e noi stiamo arrivando da noi alla galeone un gioco sono no 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 sta girando verso di voi adesso io lo vedo che va verso il galeone si ma io lo vedo meglio da qui sta girando c'è il rischio che si spari qualcuno però per ora sta tornando da voia ok la slupe sta andando verso il galeone e verso il brigantino si ma ormai ci hanno sfamato ah io qui si qui il raid non lo finiscono più vuoia voia se ci hanno sfamato non lo finiscono più quando lo ha il raid eh si ah loro sono tornati ragà si è buttato uno pura Troppo rischioso Vado sulla loro nave Ma chi è? Ma chi è? Ma è Revo Ok sto andando sulla loro nave Gettagli l'ancola se riesci Ok sto attaccato La droga fa male Morto uno morto uno Gli ho buttato l'ancola Gli ho buttato l'ancola Gli ho buttato l'ancola Gli ho buttato Gli ho buttato l'ancola? Ok perfetto Sto stronzo E' morto anche l'altro Stanno affondando Oio mi serve una mano Arriva arriva Vabbè non è che... Ok oio lo stanno affondando Sì io arrivo 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 Cazzatina è morto anche l'altro Dai che stanno affondando Gli ho sfondato Gli ho sfondato Gli ho sfondato Stava affondando Gli ho sfondato Gli ho sfondato Gli ho sfondato Gli ho sfondato E dobbiamo stare attendendo Alle turri Avvisatemi quando devo salire Che cosa facciamo? Allora Ulisse... Ma perchè? Vabbè non è che mi vedo Dai ti puoi buttare l'ancola Ora? No no ti cogliela Puoi buttare Arriva la Sloop Schelly E ci ingaggerà sicuro Ancora messa giù Ok buttagliela ancora Ancora giù Ok Eh non fagliela alzare Sotto dove viene Ok è caduto in acqua Vai bombardato Cos... Alzate le vele Siete tutti alzati Siete tutti alzati Siete... Quella dietro qui Non ci vuoi Aia dai raga Io non resisterò Non so Animo pure io Animo pure io è morto sono morto dai dai tranquillo sumanguru è tutto a posto dai dai che è andata anche abbastanza bene stavo continuando a spingere giù dalle scale porco giù il problema è che il pompa è lento a ricaricare se ricaricavo riuscivo a boiccare tutti e giù sparate sempre stanno tutti quanti sull'isola sì ragazzi questo tipo veniamo tutti li ammazziamo quello che stiamo facendo che tu vuoi buttare tutte le ancore che vuoi attaccati e lo so ma il problema è uguale che siamo io e crossword crossword è tutta stessa fanno giù l'anca ma siamo io e crossword capito ok non ci possiamo nemmeno fermare intanto l'aera io vai a rompere gli coglioni ok li ho presi io ho ammazzato quello sulla torre perfetto no blocca la nave eh ora ci sta arrivando vado io vado io vado io a bloccare la alzami le vele alzami le vele eh non so però ma alziamo l'angora però gliela posso fare ecco qua ok gliela butto io l'angora gliela butto io no stanno andando si stanno andando no non giocare io devo andare io devo rispondere a tutti ragazzi io sono arrivato a un lavoro perché è morto metti a girare a sinistra e intanto spara eh ma neanche io sono male mi ha ucciso ma io mi ha ucciso ma io mi ha ucciso ma io mi ha buttato l'angora mi ha proprio ciò che mi ha no non le balle ragazzi io sono attaccati da loro vai tu non uccidi c'è solo uno c'è solo uno cazzo c'è solo uno io l'ho fatta ributtare di nuovo dai ragazzi io però non sono immortale intanto tu le vele tutti i coglioni oh ma quelle cazzo sto spawnando eh io sono morto porco giù guarda guarda hanno le vele giù ok c'è pure zanella perfetto sono morti ragazzi ho ammazzato ok sto riparando giù io mi ero incastrato in quella merda di arpione dei miei coglioni spaventati sono morto aiuto le squadre addosso sono morto io da loro vedo se riesco ammazzato esatto dovremmo terminarli ora e finiamo il raid ok c'è anche un boom boom è buono è un boom boom pensavo che lui si stia facendo il boom mi sono dimenticato di cambiare mi sono dimenticato di cambiare portano direttamente fanno grabare grosso me grabbano direttamente allora gli esposini li li lascio prendemi grabba questo e poi grabba quello di Uliss ma fanno grabbare Uliss quando fa? vado a prenderti oh che culo c'è anche la risorsa che abbiamo un sacco di rovi tino è la madonna andiamo a David's Ridge eh ma ormai abbiamo già questo biglantino che è vicinissimo allora c'è una cosa non date troppo frate per me fondate troppo è vicinissimo è la frana non può sembra un biglantino lascia no è una schelli no è una schelli ma la schelli ma perché trolli qui siamo noi quelli che trolliamo in tutto questo alzatemi la vai davanti pezzi di merda e ora vengono le forse della fortuna tipo ora entro nella locanda c'è un po' il bombare mi uccide fermati ci sono due ciurme vai più piano ci entro io con quello di Atena che magari sparano per me ma vai esagerato dai niente volere schiare io ho preso la bandiera ragazzi le vecchie le vecchie sono vecchie morire vabbè non dobbiamo ma che mi spara la bandiera non devi venderlo a lui lo sai vero che cazzo si vende allora devi venderlo allora sempre ah ok perfetto fuuuu che si è un bel che si è un bel